Nonostante l'accorato appello di Papa Francesco, la speranza di una tregua a Gaza è corollata e oltre ai morti in Siria, dove il conflitto continua tuttora, ai sopprusi e alle violenze nel nord dell'Iraq, dove si arriva persino all'obbligo della conversione per i cristiani, cresce ulteriormente la tensione in Medio Oriente dopo il rifiuto delle autorità palestinesi di cessare i lanci di razzi in Israele e la decisione di Israele di invadere Gaza, denuncia in una nota la Caritas italiana. E proprio il Papa, facendo seguito all'appello a continuare a pregare per la pace in terra santa di domenica scorsa, ha telefonato personalmente al Presidente Peres e al Presidente Abbas, come riferisce la sala stampa della Santa Sede. Nel corso della conversazione il Pontefice ha condiviso le sue gravissime preoccupazioni per l'attuale situazione di conflitto, che coinvolge in modo particolare la striscia di Gaza e che in un clima di crescente ostilità, odio e sofferenza per i due popoli, sta seminando numerosissime vittime, dando luogo ad una situazione di grave emergenza umanitaria. Come aveva fatto durante il suo recente pellegrinaggio in terra santa e in occasione dell'invocazione per la pace l'8 giugno scorso, Papa Francesco ha assicurato la sua incessante preghiera e quella di tutta la Chiesa per la pace in terra santa e ha condiviso con i suoi interlocutori, che considera uomini di pace e che vogliono la pace, il bisogno di continuare a pregare e di impegnarsi per far sì che tutte le parti interessate e quanti hanno responsabilità politiche a livello locale ed internazionale si impegnino a far cessare ogni ostilità. In modo particolare poi il Papa ha anche inviato all'intera comunità cristiana di Gaza un messaggio di solidarietà e vicinanza, assicurando sempre la preghiera per la pace. Preghiera anche al centro dell'iniziativa dei Papa Boys, una preghiera non stop di 12 ore per la pace in terra santa, giovedì 24 luglio, dalle ore 18 fino alle 6 del mattino. I giovani si metteranno in ginocchio di fronte all'Eucaristia per chiedere al Signore di intervenire e sanare il conflitto che oppone i popoli israeliano e palestinese. Dopo il pellegrinaggio di Papa Francesco in terra santa a maggio, si legge in una nota dell'associazione, abbiamo vivi noi il ricordo e le immagini di quelle importanti giornate e insieme all'incontro dell'8 giugno del Santo Padre con il Patriarca Bartolomeo, il Presidente Perez e il Presidente Abbas, con i quali hanno invocato il dono della pace, volendo rispondere alla chiamata a spezzare la spirale dell'odio e delle violenze. Intanto l'UNICEF ribadisce la richiesta agli israeliani e ad Hamas di evitare vittime tra gli adolescenti. È vergognoso che i bambini a Gaza continuano a pagare un prezzo pesante in un conflitto di cui non hanno alcuna responsabilità. I bambini di entrambe le parti del conflitto devono essere protetti da questa violenza insensata. Coloro che hanno poteri decisionali hanno l'obbligo di tenere i bambini lontani dalla linea di tiro.